La pulizia, a regola d'arte. Crediamo e rispettiamo la professionalità delle persone che operano nella nostra azienda. Crediamo nel rapporto di collaborazione con i nostri fornitori che rappresentano a tutti gli effetti un partner della nostra azienda. Crediamo nella regolarità delle norme e nella loro attuazione in ogni singolo particolare. Crediamo nella progettazione e riorganizzazione dei servizi, nella ricerca di soluzioni tecniche innovative e nella formazione e gestione del personale. Serietà e professionalità sono i nostri pilastri consolidati. Per assoldere a tutte le esigenze, Montini Group può avvantare tre divisioni aziendali. Montini GF New Age SNC Diamond Team SNC Abbiamo maturato le nostre esperienze in settori operativi quali uffici, stabilimenti, comunità, condomini, abitazioni, negozi, centri commerciali, ecc. Per operare ai massimi livelli è necessario affidarsi ad una pianificazione attenta e metodica che solo un'azienda di grande esperienza e professionalità come la nostra può offrire. Chiamaci per un preventivo gratuito. Siamo a Brescia, in via Cipro 58.